La Valle di Sacco, questa è un'ottima notizia, invece la Regione ha firmato un accordo con la ASL Roma 1 per un'indagine epidemiologica sulla zona e gli abitanti della Valle del Sacco che vive una delle più gravi situazioni di inquinamento d'Italia. Vedete qui una situazione che si perpetua ad ogni autunno quando questa schiumazza immonda invade la Valle e invade quindi tutte le zone che una volta furono cantate nelle poetiche di Orazio. Costo dell'operazione un milione, stanno partendo le indagini e questa è una buona notizia.